Iniziative come questa, iniziative come Doffin Tour, sono più che importanti, sono fondamentali. Molto fatto bene, è anche interessante, infatti volevo partecipare anche agli altri documentari, tra l'altro poi è un pezzi. Allora, la Rassegna è stata un'iniziativa straordinaria. Ci siamo, ci siamo stati, ci sono stati sullo schermo e ci sono stati anche sulle poltrone, per cui direi che ci siamo stati tutti. Grazie a tutti!